Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Prima di prendere in mano l'interfaccia grafica e capire come è organizzata Però volevo fare un'ultima precisazione, un'ultima considerazione sui progetti After Effects Volevo parlare dell'auto save Che è qualcosa di fondamentale, lo abbiamo visto in Premiere Quando fate cose molto complesse salvare il vostro lavoro è importante A volte capita di dimenticare di salvare il proprio lavoro Il computer va in crash e noi perdiamo ore, ore, ore di duro, duro, duro lavoro Ecco, tutto questo può essere arginato con gli auto save Ne parliamo tra un istante, prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice degli argomenti di questo corso Trovate anche il corso di montaggio video con Adobe Premiere Se volete imparare ad utilizzare Premiere al meglio Vi invito, sì, vi fa piacere chiaramente Ad iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial E cercatemi su Facebook La pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Cercatemi, mettete un like E lì daremo tutte le novità a mano a mano che ce ne saranno Oh, auto save Perché è importante? Perché come si diceva Quando si lavora ad un progetto può capitare, e capita Che il computer vada giù, il software vada giù E tante parolacce, via, si dicono, diciamo la verità Perché il lavoro magari di ore va perso Dobbiamo ricominciare da capo, siamo in ritardo con la consegna E tante cose che chi fa questo mestiere probabilmente conosce bene Impostare gli auto save è un modo per arginare quanto meno questo rischio Per limitare questo rischio Ricordatevi sempre di salvare Meglio ricordarsi che lasciar fare alla macchina Ma se proprio vi dimenticate Ecco, l'auto save può essere un ottimo salvagente Come abbiamo visto nelle scorse lezioni I template, sia template sia i progetti After Effects Sono dei semplicissimi, banalissimi file Che sostanzialmente contengono tutte le informazioni a cui stiamo lavorando Ecco qui, questo è un file di progetto L'abbiamo già visto nelle scorse lezioni Automaticamente After Effects, vicino a questo file Crea un'altra cartella La cartella degli auto save Vedete la cartella Adobe After Effects Auto Save Dentro a questa cartella trovate quelli che sono i salvataggi Che After crea in automatico Senza che voi dobbiate preoccuparvene E questa è una grande comodità, vi dicevo Perché vi permette di limitare il rischio di perdere il lavoro che avete fatto Come si salvano gli auto save Come si settano le impostazioni di auto save in After Effects Dobbiamo andare nel pannello modifica Scendere alla voce preferenze E scegliere e cercare la voce salvataggi automatici in italiano Auto save in inglese Eccolo qui Le impostazioni sono veramente molto 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 semplici Dobbiamo chiaramente attivarlo ma di default dovrebbe già essere attivo Scegliere ogni quanti minuti vogliamo After Effects salvi il nostro file Possiamo ovviamente personalizzare anche la scelta Della cartella in cui andare a posizionare gli auto save Se lasciate la voce di default attiva L'auto save viene creato nella cartella che abbiamo visto prima La cartella auto save vicino al vostro file di progetto E soprattutto dobbiamo scegliere quante versioni di auto save mantenere Prima che After Effects le sovrascriva In questo caso After Effects salverà 5 versioni del mio progetto Una ogni 20 minuti La sesta versione andrà a sovrascrivere la prima In altre parole Potete tenere questo valore anche un pochettino più alto Senza problemi Se non sono progetti troppo complessi non peseranno tantissimo Il tempo io consiglio sempre di stare sui 5 minuti o anche 3 Cercate di bilanciare un po' Diciamo un tempo ragionevole che non vi importuni troppo Ma che vi metta però al riparo da eventuali problemi con la macchina Diciamo 5-10 minuti È un tempo più che ragionevole quando si lavora in After Effects Il valore delle versioni va benissimo 5 Potete scegliere di metterne 10-20 Insomma potete anche fare di più A seconda di quelle che sono le risorse della vostra macchina Cliccate su ok e After Effects automaticamente In questo caso ogni 5 minuti Salverà una nuova copia del nostro progetto Nella cartella che avete indicato Nella cartella auto save Se non avete scelto una cartella preferenziale È importante farlo per evitare di arrabbiarsi Ve lo dico come consiglio molto 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 sincero Basta così Nel prossimo tutorial vedremo l'interfaccia Questa volta veramente di After Effects Vedremo come funzionano i pannelli Come organizzarli eccetera eccetera www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso Oltre al corso di Adobe Premiere se volete Iscrivetevi iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere i prossimi video tutorial E se vi fa piacere cercatemi su Facebook La pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Lì daremo tutte le novità a mano a mano che usciranno Grazie mille ancora buon proseguimento al prossimo video tutorial Ciao